taschina rolli polli in cordura mille den viene utilizzata sulle buffetterie e sui givernaggi in un modo particolare viene agganciata con gli attacchi classici molle automatico poi all'occorrenza viene aperta notare il foro finale di autosvuotamento viene aperta e utilizzata come sacca collassabile molto grande molto capiente chiudibile in parte al suo imbocco tramite due cursori con elastico da 4 mm chiudibile sopra con velcro utilizzabile in quest'altra maniera viene lasciata aperta come recuperatore di caricatori o qualunque altra cosa vogliate mettere al suo interno molto solida e robusta buona qualità e facilmente richiudibile una volta utilizzata rimane facile da utilizzare proprio perché si può richiudere in se stessa con ingombri minimi